È una giornata importante per la sezione cinema di CNA, siamo in piena mostra del cinema e questo convegno di particolare rilevanza pone l'accento sulla crisi del cinema subito dopo la pandemia. Assolutamente sì, non poteva esserci location più indicata, la mostra internazionale a Pesaro è l'orgoglio della città ormai da tantissimi anni e qui vogliamo fare il focus e il punto della situazione di un settore che anche nella nostra regione io penso sia molto sottovalutato. Abbiamo professionisti di ogni genere che riguardano il cinema e l'audiovisivo di grandissima importanza, di grandissima qualità e purtroppo con la pandemia è stato probabilmente il settore che in assoluto ha risentito più di questa grande crisi. Dobbiamo aiutare queste imprese a riprendere il proprio cammino, lo dobbiamo fare con forza, con aiuti importanti, non soltanto di facciata ma davvero concreti. Il cinema indipendente in questo momento sta soffrendo moltissimo e quindi stiamo come CNA Cinema iniziando un processo di contaminazione fra imprese, piccole e medie imprese del territorio per cercare la soluzione, per cercare con la politica di trovare un modo per risollevare la nostra posizione attuale. Questo obiettivo può essere raggiunto innanzitutto con un riconoscimento in qualche modo formale della condizione di produzione indipendente e in qualche modo separando dai finanziamenti pubblici chi fa produzione indipendente dalle major, in qualche modo creare dei percorsi paralleli in modo tale che chi fa questo tipo di impresa, perché alla fine parliamo comunque di micro e piccole imprese che sono la grande maggioranza del discorso produttivo audiovisivo in Italia, possa non solo sostenersi ed entrare nel mercato ma essere forte e portare questo discorso a più persone possibili. Sentendo il convegno mi sembra che qualche segnale positivo stia arrivando. Innanzitutto l'argomento più gradito, i fondi, dal prossimo anno e per cinque anni sono in campo fondi europei per la produzione, per l'esercizio, per la formazione, insomma c'è una vigorosa immissione di risorse per il comparto audiovisivo e questa è una bellissima notizia. Grazie a tutti.